Ieri è stata una giornata nera a Fano sul versante dell'infortunistica stradale. Due gravissimi incidenti si sono verificati nel giro di nemmeno sei ore a distanza l'uno dall'altro e in tutti e due i casi a riportare le conseguenze fisiche più gravi sono stati due motociclisti. Dopo il pauroso schianto in via Papire delle 14.30 dove si è dovuto ricorrere all'eliambulanza per trasportare d'urgenza al Torrette di Ancona il 47enne scuterista per le conseguenze dello schianto contro un'auto a dover essere trasportato ad Ancona per essere operato d'urgenza è stato Marco Talamelli di 28 anni fanese molto conosciuto in città per essere il bagnino dei bagni La Baia di Baia Metauro gestito dal padre Mauro Talamelli. Marco ieri sera dopo le 20 è partito in sella la sua moto di grossa cilindrata dal bar arcobaleno di Cucurano e dopo un centinaio di metri poco prima delle scuole elementari sulla Flaminia ha perso il controllo della sua moto ed è uscito di strada sulla destra andando a schiantarsi dopo una decina di metri contro una colonnina dell'Enel dopo aver abbattuto due coperture in muratura di contatori dell'acquedotto e sfiorato una pesante pianta. Sbalzato dalla sella della sua moto è poi rovinosamente caduto a terra vicino a un'abitazione mentre la sua moto ha terminato la corsa impazzita dall'altra parte della careggiata vicino all'ingresso della scuola. Mauro non è un novellino è un motociclista esperto e coscienzioso ancora da decifrare quindi le cause della perdita di controllo ma forse la sua uscita di strada è dovuta alla perdita di aderenza del pneumatico anteriore per cause ancora da definire. L'intervento chirurgico e cui è stato sottoposto ieri sera ad urgenza è durato otto ore per ridurre le fratture scomposte a bacino, gamba e braccio destro. Nella rovinosa caduta inoltre il 28enne ha riportato lesioni al fegato e a un polmone oltre che la rottura di alcune costole. Ora i medici lo tengono in uno stato di sedazione controllata in attesa di sottoporlo a nuovi interventi. Tantissime in queste ore le testimonianze d'affetto e di incoraggiamento di amici e conoscenti sulla pagina facebook del padre dalla quale è stato dato il triste annuncio del brutto incidente occorso a Marco.